Siamo arrivati Oh, finalmente Ma, oh, ma tu sei un coniglio Ma che? La notte mi l'ho preso Uffa No, non ti preoccupare Dobbiamo attaccare di sopra il setto Sei pronto? Sì E lei? Vediamo quanti manufatti mi darà Due manufatti Mi darà due manufatti Sei felice? Certo Perché con tre manufatti Posso Solo tornare a un gufo robotico Vabbè, attacchiamo la dispera Siamo tre Ok, tre, due, uno All'attacco Ah, buona niente Fa un pronto di peggio Qui sto dormendo Che mi ha fatto male Io ti killerò Sì E' un po' più grande Sì 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 Non è un po' più grande Sì 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 Io vi spamo la schiava! Io vi spamo la schiava! No, no papà, non morire! Non c'è la vita! Non lo dava la vita! Ce n'erei io! Grazie! Mi do un campugno! Un po' di tempo! Perfetto, ora abbiamo tutta la vita! Lo è! No! Voglio prendere la vita! Lo penso a lei! Mi da! Ora! Lascia le spalle! Cattiva! No! Vai dietro! Chi vero? No, no, no! Indegno! Indegno! No! Vedere così! Ma che cavolo! Gnial! E' finito BLEED addosso! Una spada di merda! Cos'è detto, voi tu? Una spada di merda! Non c'è niente di male! Perché ci puoi una spada, tu? Certo, è una spada di banani! non prendere più in giro lo banalite, hai capito? tazzardo è nata la voca, tazzardo è nata la voca, voca io nella faccia citto! sapevo! prendi vita! attento! che bella schimata questa la mia schiena mente! no no, vstone! uscite! no! Buongiorno Libertà La maledizione è spezzata È un giorno glorioso Fa più rumore dell'ultima Signora, ci dica Perché era in tale forma corporea? Perché ci combatte? Non lo so L'anima di una valchiria non può rimanere pure in un corpo materiale Apparteniamo al mondo spirituale È là che sono diretta Addio Addio Ok, addio Dai qua Gli darò due manufatti Addio Sì, due manufatti Qualcuno l'ha resi così Ma chi? E per chi? Io non voglio azzardare ipotesi Tu sai qualcosa Sono Minir L'uomo più sapiente del mondo Sono molte cose Testa Sigrun La regina delle valchirie Lei possiede quel potere L'ultima volta che la vidi si era resa corporea Venne a farmi visita dopo la mia reclusione per mano di un Abbiamo dei trascorsi Se così si può dire Tipo una storia da noi Ragazzo Mi fai arrossire? Credo Posso arrossire? Prima diamo la caccia a queste creature E poi alla tua ex amante? Non ci servono queste distrazioni È ben più di una distrazione Vali Sono valchiri Sono loro che impediscono i morti di annientare i Midgard Stanno facendo un pessimo lavoro Non è colpa loro Qualcuno le ha cambiate Le ha distolte dal loro dovere La regina? Non ne sono sicuro Dovremmo chiederlo a loro Certo, se la distrazione non è un problema Gi dedicated Beef E' la chirurgia Ok E' la chirurgia E'原因 Questa è la chirurgia Perché è piena di bruciare le?! C'è la chirurgia fatta e ripeto un'altra volta l'abbiamo sconfitta. Siamo stati bravi io so dove si trova l'ultimo manufatto cioè c'è qualcuno non c'è nessuno oh la porta è sbloccata possiamo andare prego di torniamo dove vuoi di tornare? non lo so andiamo siamo qua domani sarà tutto cambiato grazie a tutti grazie a tutti